Il vaccino contro il coronavirus sembra sempre più vicino e porta anche i colori dell'Italia. L'azienda italiana IRBM infatti collabora con l'Università di Oxford per la messa a punto di un vaccino. Entro dicembre, dicono i vertici dell'azienda di Pomezia, se tutti i test daranno gli esiti positivi, ci sarà un primo stock di vaccino anti-Covid disponibile per iniziare la vaccinazione di alcune categorie più fragili. Stando così le cose, a giugno dovrebbe partire la prima fase di test su 500 volontari sani. Se ci saranno dati positivi, si passerà poi ad un'altra fase che prevede ulteriori test su 5.000 persone. Al momento il vaccino è stato somministrato a circa 320 volontari sani e ha mostrato di essere ben tollerato. Intanto è già scesa in campo una multinazionale che si occuperà della produzione e della distribuzione del vaccino. L'azienda punta ad avere i primi 100 milioni di dosi entro la fine dell'anno, dando priorità alle categorie a rischio. Intanto uno studio cinese pubblicato sulla rivista scientifica Nature Medicine in evidenza che a 19 giorni dalla comparsa dei sintomi il 100% dei pazienti analizzati aveva sviluppato gli anticorpi IgG, cioè quelli prodotti durante la prima infezione che potrebbero proteggere a lungo termine. Questo vorrebbe dire anche che il test sierologico potrebbe essere utile per diagnosticare i pazienti sospetti, risultati negativi al tampone e identificare quelli asintomatici.